ragazze buongiorno maschera mythic oil è una maschera ideale idonea anzi a tutti i tipi di capelli quindi siamo tutte incluse in questa maschera capello mosso liscio fine grosso crespo colorato con mesh per tutte è una coccola una coccola perché questo prodotto questa maschera ci va a idratare il nostro capello in profondità però in più completa leggerezza perché comunque una maschera molto soffice quindi va a idratare ma non appesantisce assolutamente in pochissimi minuti di posa ovviamente scusate laviamo il nostro capello applichiamo questa maschera lunghezza e punta e dai 3 ai 5 minuti di posa avremo comunque un capello setoso lucido molto morbido idratato ma senza ad appesantire coccola perché coccola perché comunque come vi dicevo lo possiamo utilizzare tutte tranquillamente e poi perché ha una profumazione veramente molto gradevole che comunque quando andiamo ad asciugare i nostri capelli questa profumazione comunque rimane il che è sempre comunque un bello avere una testa una capellatura profumata e lucida quindi provatela tranquillamente pure tutte buona coccola tutte